Rieccoci Milano San Siro, rieccoci dentro al nostro stadio, sotto il nostro cielo. L'ultima volta che abbiamo giocato con il Brescia San Siro era il 4 dicembre del 2010. Il calcio d'inizio di Milano Brescia e Suso che dà la palla indietro a Musacchio. Ecco Suso che parte, palla morbida con voi testa alto. Se ne va Suso, ecco Suso, mette in mezzo, Ciananoglu gol! Ha segnato Ciananoglu, Suso illegale sulla fascia, Suso illegale sulla fascia. 1-0 per noi, 1-0 per noi, 1-0 per noi! Te l'ho detto Giovedì, Ciala! Vai libero sciolto verso la palla che fa i gol! La palla messa in mezzo, il colpo di testa, bravo Davide! Il tiro al volo, è incredibile il gol, sbagliato dal Brescia. Suso, Suso cerca subito il lancio per Andresilva, Andresilva! La lascia rimbalzare Andresilva, poi la mette alta. Benasser, bravissimo, splendida la palla di Benasser per Ciananoglu! Avanza Ciala, 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 Ciala al tiro fuori! Bella azione, bella azione, splendida palla di Benasser, splendida! Sabelli, hanno tanti uomini avanti, noi siamo un po' lunghi, Sabelli che ha tirato bene anche prima. Grande, enorme parata di Gigio, ho avuto paura dell'autogol. Enorme parata di Gigio, enorme parata di Gigio! Bravo Benasser di prima bella per Riccardo Rodriguez, che la tiene in campo, bravo RR! Ottimo cross, Castieco, spunta Castieco! Finisce anche per commettere fallo, la palla è alta, bella azione! Vediamo Tonali che mette in mezzo, palla sull'esterno della rete! Attenzione, ancora il cross, Gigio! Gigio, ho paura, ho paura, si immola e ci salva Davide! Grande Davide! Dai che c'è campo! Ma cerchiamo sempre come zona di comfort, Suso, buon cross, Piontek, Paquetà, tiro Borini! E non riusciamo a far gol! Clamorosa occasione Mila, la più importante del secondo tempo! Punta Suso, Suso dentro, che sì! Abbiamo il vizio di accompagnare la palla e non di tirare! Tiriamo, che sì, a terra, mischia, Piontek! Piontek! La parata incredibile, la parata incredibile! Che sì, troppo lunga, che sì, che sì, che sì! Il tiro di Che sì, alto! Speravo la sfondasse quella porta lì! Gran giocata, si era liberato bene! Inevitabilmente, inesorabilmente da Suso, Piontek! Piontek se ne va! Piontek! Palo! Palo, Suso! Alto! Azione fantastica di Piontek! Palo! Punta KK! Vai! 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 Piontek la prende Ioron in calcio d'angolo! L'aveva piazzata bene Piontek! Quattro occasioni nette nostre! Tra poco scopriremo quando sarà da recuperare! Colpo di testa! Tiro! Gol! 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 No, non ce lo danno! Incredibile! L'ho vista dentro! L'ho vista dentro! Andiamo! Eh no! Eh no! È uscita! Stramaledetta è uscita! Eh sì! Eh sì! C'ha ragione la goal line technology! Siamo al 94esimo! È finita! Milan ha vinto! Ed è la cosa più bella e più importante della nostra e soprattutto della vostra vita! Ciao a tutti! 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 Grazie.